l'associazione nicolas de santis è lieta di presentare la quinta edizione di beach volley event five night sulla spiaggia antistante lido mattinelle l'evento si terrà il 27 agosto 2021 un torneo a squadre di beach volley una giornata di puro divertimento con premi in campo 4x4 visto con obbligo di una ragazza in campo iscrizioni gratuite a squadre e a numero chiuso canotta e acqua per ogni partecipante fischio d'inizio alle ore 17 fino alla fine del torneo per info e iscrizioni 345 0050791